Ti sei mai chiesto cosa avvenga qualora andassi a smettere di assumere la cratina? Facciamo un esempio, hai assunto cratina per 5 settimane, per 4 settimane e poi per qualsiasi motivo hai deciso di staccarla. Dopo quanto andrai a liberare le tue riserve di cratina al punto di partenza, quindi ai punti, ai livelli standard, ecco, stando alle informazioni scientifiche in media ci vogliono 6 settimane. Quindi se per qualsiasi motivo hai rilevato che avevi la cratinina alta e non avrei fatto delle analisi prima di iniziare a prendere la cratina, può aver senso staccare la cratina per 6 settimane e dopodiché andare a ripetere le analisi per verificare se i livelli di cratinina siano ancora alti. In quel caso, se sono alti, eventualmente se ne parla con il medico e si va ad indagare ulteriormente. Qualora invece si fossero abbassati, ecco una conferma che probabilmente è la colpa della cratina e in quel caso sappiamo che non è un problema da un punto di vista di salute ma è una cosa abbastanza normale che si presenti, non in tutti, ma si può presentare. Tutte queste informazioni, mi raccomando, applicate con le migliori marche di integrazione, nella rivoluzione di sua integrazione, il link è nel mio sito.